Non si è fatta prendere dalla paura e ha inseguito il ladro che le aveva appena rubato i soldi dalla cassa lanciando verso di lui una ciabatta. Subito dopo ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine, postando su Facebook le immagini riprese dalla telecamera del suo negozio. Con il passaparola social, un'amica ha quindi individuato l'uomo nei pressi di un supermercato vicino, dove il malvivente è stato raggiunto dalla stessa commerciante e dai carabinieri che lo hanno preso in consegna, protagonista della vicenda Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Valle San Martino e titolare della gelateria pasticceria Chris di Corso Dante, in centro Calolzio, dove domenica mattina sono venuti i fatti. Il ladro ha razziato 60 euro lasciandoli poi sul posto appena si è visto inseguire dalla donna, alla quale non è certo mancato il sangue freddo. Ero in laboratorio, ho sentito un rumore strano, mi sono subito esposto ho visto un ragazzo che stava togliendo dei soldi contanti dalla mia cassa, quindi io gli ho chiesto cosa stava facendo e lui mi ha guardato con un'aria molto arrogante al che mi sono molto arrabbiata e questo ha preso i soldi, l'ho rincorso subito, io ho preso la mia ciabatta e ho cercato di lanciare proprio per spaventarlo. Ha mollato per terra i soldi, quindi è scappato. Soltanto che io la cosa non l'ho lasciata cadere, perché comunque mi sentivo molto in difesa. Abbiamo iniziato a cercarlo, ho messo a posto il video visto che abbiamo una telecamera esterna e grazie a una cliente che ha visto questo video su Facebook mi ha chiamato che si trovava al supermercato proprio a 200 metri, l'ho raggiunto, mi sono avvicinata a lui facendo finta di chiedere l'orario in modo che arrivasse subito le forze dell'ordine, il rabinere di Colosio Corti che sono stati veramente molto tempestivi e l'hanno arrestato, io sono subito a fare la denuncia.